...che risultano positive allo scritto, prima di tutto hanno un percorso dedicato, quindi non hanno bisogno della prescrizione del medico curante, della cosiddetta ricetta, ma con la lettera della positività si regano direttamente in uno dei quattro centri, dei quattro ospedali dall'asine individuati dove si effettuano le conoscopie che sono marcianise aversa del di Montessessa a seconda del distretto di residenza e si regano direttamente nei reparti di endoscopia per effettuare la prenotazione. In quella giornata il paziente riceverà da personale addetto, formato e dedicato per questa cosa le necessarie informazioni, le rassicurazioni, mi sarà chiesto se ha di malattie, se prende farmaci che dovrebbe sospendere, degli esami preparatori, gli sarà fornita addirittura la preparazione proprio materialmente, perché si sa che per sottoposta è una panoscopia, bisogna pulire il colon, pulire l'intesina.